Comunque ormai l'avete sentita parlare, quindi lei ci ha chiesto come va e allora noi risponderemo Non l'hanno sentita parlare, l'abbiamo sentita solo Grazie mille Rottenboy, grazie mille Tanti errori sto facendo a te o Gemmo, spoiler a Charlie, si taglia la barba Ora la sentono parlare, ora pare anche, così, patà Eccola Boom, grazie ragazzi, come state? Benvenuti Niente, sono io che mi do il benvenuto, l'abitudine No, 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 ma mi piace questa inversione, sì, sì, sì Beh, almeno tu parli perché settimana scorsa abbiamo avuto l'apo Teoricamente tra poco dovrebbe anche tornare a trovarci Sì, sì, appena Charlie va via, arriva l'apo Sì, perché lei ha sostituito l'apo in ABC E quindi adesso invece l'apo verrà sostituito Ci diamo il cambio Oggi potrei anche farlo parlare, Andeo Potresti anche farlo parlare? Secondo me sì Vedremo come andrà a finire Allora Charlie, tu sei qui oggi perché Per tanti motivi in realtà Nel senso che io in realtà Avrei voluto averti da diverso tempo Poi tra una cosa e l'altra non c'è stata l'occasione E' un po' più che dicevi di non evitarla Io rischiamo sempre a dire invitiamo Sì, ma facciamo vedere Charlie No, no, i veneti mi stanno sul cane L'ha detto un sacco di volte Ok, queste erano le vicissi tu No, in realtà non so manco di dove Di dove sei? Ecco, prima di dove sei? Allora io sono nella regione che Può mandare Sento delle bestemmie che girano nell'aria Se le vedi? È un po' più evidente Sì, sì, sì Siamo di averle messe tutte quante nell'armadio Io e Detrurian tendiamo sempre a fare questo meme Per cui la Toscana e il Veneto Sono le due grandi sfidanti Alla challenge Non c'è gara All'imprecazione contro il calendario Quindi spero in realtà per mio gusto personale Che non si senta troppo dall'inclinazione Però sì, io sono da età Zona? Si può sapere? Ah, zona provincia Treviso C'entro proprio del Veneto La prima domanda Charlie Nella tua vita privata bestemmi? Certo Per forza Ragazzi Allora, noi in Italia abbiamo avuto qualcuno Un secondo Certo Noi abbiamo avuto qualche cast Che ha lanciato Delle impregazioni importanti Durante la finale mondiale Certo, certo Charlie, Charlie Ci prometti Ci prometti Un bestemmione Se dovesse arrivare a castare Una finale mondiale Di ricordi Dal vivo Dal vivo Non ti dico in studio Ma dal vivo Farai lo stesso? Allora Ci sono Allora Allora Ci sono Sì Complicate Che ho mai fatto nella mia carriera Viste le finali degli ultimi mondiali Io ero in studio a Milano Ok E Dopo quella freccia penetrante di Varus Al Baron Ok Lì Lì Secondo me Zeca Un po' L'ha buttata Ero attanto così L'ha detto L'ha detto anche lui Porco Oseca Sì 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 Esattamente E Oseca Vabbè scusate Vabbè Però Quando succederà ci penseremo Esatto esatto Però Tu oggi appunto abbiamo avuto Diciamo stavolta C'è stata proprio la scusa particolare In realtà lo sapevo già da prima Però non potevo dire niente Comunque abbiamo Una nuova Caster Appunto per quanto riguarda L'elissi Appunto sarete tu Moonboy Giovannetti E Karen Ovviamente Karen è confermato Giovannetti che sale Moonboy ogni tanto L'ha fatto con il compasso Adesso lo farà In via più costante E tu sei la La new entry Quello che voglio chiederti Prima di tutto E Tu finora Hai fatto Il Prue in Grounds No Che fe No Ha fatto il Tormenta Scusa scusa No no Mi ho metto il Tormenta Scusa Ovviamente il Tormenta Scusami Hai ragione Non ho studiato Scusa lo Charlie No no Iniziate Ma a volte si confondono Le due leghe Senti a proposito Charlie Prima della domanda Che ne parlava Revil E ne parlava Giovannetti Ho sentito Chiaramente Questa cosa Perché Revil dice Secondo me Charlie Giovannetti lo insulta parecchio Perché lui è salito Da PG A LC E tu invece sei salito Da Tormenta A LC Come ci si sente A essere così superiori Sì Beh no Superiori La superiorità Non credo che Faccia parte di questa Cioè della mia situazione Anzi C'è stato un insieme di circostanze Che hanno reso possibile Questo tipo di incastro E io lo prendo assolutamente Come un'opportunità Per Lo puoi dire O ti tieni i tuoi segreti Non ho segreti Che cosa è successo Che hanno portato Questo incastro Allora io Personalmente Non so i ragionamenti So solamente che Quando sono arrivati Con la proposta Non era stato Ancora ufficializzato O meglio Lapo non aveva ancora Fatto la comunicazione Che Avrebbe preso Un'altra strada E Di conseguenza Non Cioè io e Lapo Ci eravamo parlati Letteralmente Un paio di volte Prima di questo evento Prima di questa situazione Quindi Non che ci fosse Qualcosa di premeditato Anzi Cioè io personalmente Avevo fatto magari Qualche congettura Tra me e me Per capire un po' Magari quali sarebbero state Le prospettive del 2023 Ma Onestamente Non mi sarei Mai pensata A questo tipo Di opportunità Al che Mi trovo Veramente Con in mano Un'occasione Una finestra Di Un contesto Internazionale Enorme Con uno storico Travolgente Domenica Ci sarà G2 Fanatic Quindi Partiamo in quinta Assolutamente Tu parti con G2 Fanatic È il quinto game Di domenica Il battesimo del fuego Ma che meraviglia Nessuna pressione Nessuna pressione Assolutamente La domanda Che ti farò dopo Deo Gemmo Arriviamo dopo Stavi dicendo Deo primo No era questa Ah era questa Scusa Devevo smettere Di essere mai educati Per interrompere Francesco Non lo faccio più Non lo faccio più Io adesso non parlo più Parlate solo voi Così Vi fate la vostra chiacchia Ho visto io Basta che una volta Ogni dieci puntate Faccio un errore Perché Mi sono un attimo Confuso È l'emozione Deve usare L'emozione E allora facciamo così Come rispondi Alla dichiarazione Di Tavernello Che ha detto Leggo Testuale Quell'infame Mi ha lasciato indietro Adesso Non penso che le parlerò Mai più È vero Il tweet L'ho detto pure io È clamoroso Ogni tanto Taverne è uscito Dal conservatorio Si fa prendere La mano E lo capisco In realtà io e Taverne Ci siamo Ci siamo parlati Praticamente In tempo reale Su queste cose Ma Non era Cioè Non siamo stati Convocati insieme Di conseguenza Non Finché non ci siamo Allineati a vicenda Non sapevamo Che cosa Fosse successo Effettivamente E Vi posso dire Che sicuramente Anche per lui Ci saranno Delle Novità Perché Ha fatto Il mio stesso Percorso Ripeto È stato Un insieme Anche Di circostanze Favorevoli Ma è venuto O meno Un play by play E Taverne È un color caster Quindi Non escludo Che qualora Ci fosse la necessità Penso che Abbia le carte In tavola Per andare A ricoprire Situazioni Che Includano Il suo ruolo Quindi È Credo Io invece Volevo chiederti Capire Di conoscere Di più te Perché comunque A parte che tu sei Ora Tra l'altro Tu andrai a fare La broadcast crew A comporre La broadcast crew Dell'elissi E in questa broadcast crew Ad esempio C'è Gioannetti Che non ha mai fatto Una lan No forse sì A Luca Sì che l'ha fatta A Luca Niente siamo Oggi E fate di più tu Comunque Ha fatto Raga Ha fatto anche Napoli Basta Io Basta Gioannetti ha fatto Luca e Napoli Se ne va Eh vabbè Impazzito oggi Giogevo Impazzito È l'emozione È l'emozione Raga E se ne va Eh vabbè Possiamo chiudere qui E se ne è andato Parlerai veloce Di Nuno per lui Quello che posso dire io Charlie Che bravissima Io sono gelosissimo Come cazzo hai fatto Bravissima Io sono super gelosa Guarda quando lo scopro Te lo dico Eh credo Non lo so Non lo so Non lo so Non lo invidioso Bravissimo Raga Io veramente Sono assolutamente Fortunata È capitato In una situazione Che si incastrava perfettamente Quella che si chiama in francese Botta di culo Tuttavia Se non Cioè Sono francese Sono Sì sì è francese Però facciamo così Allora Visto che c'è anche A Itusa Che mi dà il braccio Potresti anche cercare Di prendere Questa botta di culo E trasformarla Forse un po' Molomerito magari Allora Tipo eh No così Ma no Qui ci ho Proprio di dire le battute No così no Va bene Ma le meno me le rubie Scusa Se si fosse Se questa situazione Fosse capitata Un anno fa Sarebbe stato Molto diverso Sono contenta Di aver potuto Avere uno storico E un background Tale Che Mi permette Oggi Di arrivare In questo momento A dire Ok È una sfida Che richiede Un sacco di preparazione Perché è veramente Tanto il background Un DLC E prometto Che farò Del mio meglio Infatti dopo Sarò con Il mio collega Andrea A fare Studio pazzo Sgravato Tipo Il giorno prima Dell'esame Perché letteralmente Perché letteralmente Lo split inizia Domani Ma Prometto che Arriverò Quanto più preparata Possibile Perché il livello È alto I miei colleghi Sono bravissimi E C'è tanto da fare Chi sarà il tuo Color? Ci rotteremo Sì dico In questa Nella giornata E G2 Ah volete proprio Tutti gli spoiler? E vabbè a sto punto E ti abbiamo inventato A fare Charlie E allora io vi dico Con chi preferireste Che io castassi Perché tanto poi Ci ruoteremo Quindi adesso voglio sapere Le preferenze Che ci sono qua In studio In studio league Mi risponde A una domanda O con un'altra domanda Io mi ammazzo No Amici della postale Non mi dissocio Lo sai che Dico Io dico Moonboy Perché qua E Karen invece È a Parigi Solo per questo No Moonboy Io dico Moonboy Non è In teoria torna Prima o poi Sì lo so Ma oggi Non è qui Davvero? Adesso In questo momento Non è qui Karen è tornato ieri Va bene ragazzi Non ci sta guardando Ok Facciamo così Non ci sta guardando Ciao Roberto Senti Qua c'è il crispy Non lo vedo Domanda di Deogemo Che oggi è sempre on point Aveva scritto prima in chat Dato il nuovo acquisto Dei G2 Ovvero Reckless Per chi ti ferai Tra G2 e Fanatic? Intanto in che senso Acquisto di Reckless Dei G2 È che oggi Deogemo Sta sbagliando tutto Quindi stavo mettendo Raga l'ultima Allora io cito Cito i miei colleghi L'ultima volta che Reckless L'ultima volta che Reckless È rientrato in Fanatic Ci è rimasto 5 anni È passato un tot di mezzo Io do sempre il beneficio del dubbio Ci sono tante nuove promesse Tante nuove proposte Scegliere tra G2 e Fanatic Raga cioè È come scegliere tra mamma e papà Nel senso Ovviamente la mamma Posso rispondere Koi? Sì certo Rispondo Koi Ce l'hanno già un caster Che ti fa Koi però dai Eh lo so Non va più di moda adesso Allora aspetta Karen è Ha deciso che si applica L'etichetta G2 Fanboy Andrea Koi Chi è Andrea? Giannetti Giannetti Scusate Stavo pensando Alla mio cugino Sì 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 Ma zitta Andrea Andrea Eh raga è venerdì È venerdì Adesso arriva il weekend Ah per lei va bene Che è venerdì Cioè per lei va bene Per lei va bene Ragazzi è venerdì Un giorno vale l'altro Va bene Deggia ma te venerdì ci sei Solo venerdì sei live Quindi che scuse puoi darci? Eh eh No nessuno Eh Sono imperdonabile Imperdonabile La mia carriera è finita Chi vuole la Jersey The Liquid? Io Così Ha chiesto Hannibal Io Ciao Hannibal Bisogna prenderla ora Senti Posso fare delle domande adesso io? Vai Solo dopo che dici Grazie Mess Bentornato Grazie Mess Bentornato Perfetto Bellissimo Sei stato fantastico E Charlie Vorrei sapere Come è iniziata questa tua passione Per castare Allora potrebbe essere molto divertente Sentirlo Ma Era durante la pandemia Non ho segreti Non ho niente da Non poter condividere In realtà è iniziata durante la pandemia Mi annoiavo da impazzire E giocavo Che cosa facevi tu di solito? Cioè cosa fai nella vita altro? Allora in quel periodo In quel periodo stavo studiando E mi sono laureata a marzo Ah mi dispiace Nel momento in cui Eh lo so Purtroppo ogni tanto succede Ed è una cosa da cui non ci si riprende poi Perché c'hai delle aspettative E Era appena iniziato il lockdown Io mi sono Letteramente c'è stata la proclamazione E io ero in Con una giacchetta Una maglietta E sotto con La tuta Adidas Perché eri già Cioè l'avete fatta già in lockdown La programmazione Sì 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 Sei una per te Eh sì Perché faceva freddo Se no manco quella Era quella E sostanzialmente Non si poteva fare niente Avevo la fortuna di avere sicuramente Un piccolo giardino Però nel senso Raga Ci ricordiamo tutti Com'era il lockdown E quindi avevo questo mio amico Avevo conosciuto un collega di università Che Aveva fatto il mio stesso percorso Aveva qualche anno in più di me E mi fa Sì no Perché c'è questo mio amico Che organizza tornei Noi li commentiamo E io mi ero approcciata Relativamente da poco Al mondo del competitive Guardavo PG Guardavo tutti i campioni Più per passarmi il tempo Non perché effettivamente Avessi un grande background Del competitivo E letteralmente for fun E mi fa Guarda sì Così con la facciamo questa cosa E io morta di noia Perché Tendo ad essere una persona Che si annoia facilmente Se passo da Periodi di niente A periodi in cui Mi riempio oltre Il fattibile umano Ma mi rendo conto che Non riesco a stare senza far niente Mi sono detta Ma Io Sono libera Magari Mi diverto E gli ho scritto Ma senti Albi Posso Posso provare Da lì Ho iniziato a commentare Raga io vi dico solo che Allora io non avevo il barlume Di idea Di come Cioè Ruoli Cose Ci aggiustavamo E praticamente Per farvi capire La situazione era Che l'allenamento Era commentare Soltitimo Non so se qualcuno Ha presente Commentare? Come? Attraverso i VOD Le dirette di Soltitimo Soltitimo Ok Soltitimo è un Una situazione Un universo Bronze time Un universo parallelo Che praticamente È un canale Twitch Che trasmette 24H 7 su 7 Delle leghe Delle partite in bronzo Situazioni Disperatissime In leghe improbabili In Turchia In server allucinanti Che in Nord America Ok Dove vedi L'impossibile Di tutto e di più Ovviamente Camera automatica E E noi commentavamo Con quello Perché era tutto ciò Che effettivamente Ci sembra Cioè Avevamo A cui avevamo Accesso E poi In realtà Durante Abbiamo iniziato A farlo Un po' meglio Però non è che avessimo Un metodo Appunto Non avevamo Divisione tra ruoli O cose di questo tipo Quindi Così Andavamo un po' Abbraccio Poi Poi L'estate Scorsa Ho detto No ma Senti Allora Faccio questo Da Qualche mesetto Vorrei Farlo Un po' Un po' Con più testa No perché Dai su Anche perché Immagino che Cioè era una cosa Che ti piaceva fare Quindi a quel punto Dici Una volta che mi piace Esatto Ho detto Ma cioè Se riuscissimo a farlo Un po' meglio E da lì ho detto Vabbè Senti Allora intanto Seguo un po' Di caster Che vedo in giro Che insomma Nella scena italiana Che almeno vedo Cosa fanno loro Li seguo E magari capisco Un po' Un po' Il metodo E da lì ho iniziato A seguire No un po' Un po' Di follo Ho detto Tanto cioè Raga io sono Così Cioè Non che pensassi Assolutamente Di essere Considerata In nessun modo Ho detto Vedo cosa fanno loro Lì intanto Li seguo Così E Etrurian Ok Che al tempo Castava LCK League of Legends Tutto il panorama Tra LOL e Rainbow Six È un grande appassionato Di musica E quindi Io mi ricordo Che una notte Che mi ero messa A fare robe a caso Non Cioè Convinta che nessuno Mi calcolasse Che appunto Cioè Chi Se ne importa No Vedo Etrurian Ti ha menzionato Su Twitter Ma in che senso Deve esserci Qualcosa che non va E lui da grande appassionato Di musica Aveva Aveva visto evidentemente Che l'avevo seguito Che avevo un gruppo L'ha ascoltato Gli è piaciuto Ha detto Wow raga Mega bello Questo Io Grazie E da lì È iniziata Quella che al momento È la nostra amicizia E veramente Non me la Cioè Non me l'aspettavo Quindi Così La musica alla fine Non l'e-sport Ti ha in qualche modo Dato almeno Almeno L'aggancio Sì La connessione Ti ha dato la connessione Perché poi comunque Io credo che Tu magari Con la tua esperienza Potrei dire Se è così oppure no La cosa più difficile In questi casi È proprio Riuscire a farsi vedere Perché Cioè La roba da commentare Non è che non c'è Come dici tu Ti prendi anche un canale Che trasmette Determinate cose Le vuoi commentare Come vuoi Magari Ogni tanto c'è anche Qualche torneo Piccolo Iniziale Per iniziare a commentare Tutto quanto Però Cioè Arrivare A farsi vedere È molto difficile E lo è ancora di più Ad esempio Se uno volesse arrivare In DC Vera Cioè anche quest'anno L'abbiamo visto Alla broadcast Più o meno È la stessa È ritornato Ender Hanno aggiunto Un'ottima aggiunta Secondo me Però Cioè Riuscire a farsi vedere Soprattutto Cioè Più si alza di livello Ovviamente Peggio è però Il succo è quello Beh chiaramente aumenta Il bacino d'utenza Ma aumenta anche La concorrenza La concorrenza Andiamo Nel senso A me non piace parlare Per concorrenza Intesa come rivalità Ma nel senso Che ci sono più persone Che possono ambire A un determinato posto Se parliamo del ruolo Di Caster O comunque All'interno della produzione Degli studi di Berlino È un panorama europeo A cui tutte le persone Di cui Che sono fan Di questo ambito Desiderano ovviamente In In LEC Si casta in inglese Serve un'altissima preparazione Di lingua Per chi Non è nativo Se noi pensiamo Al flow Di un play by play In inglese E parlo da persona Che qua Non lo potete vedere Ma ho il santino Di Medic Ok C'è un livello Un entry level Che è altissimo Ed è giusto così Nel senso Che stiamo parlando Di quelli Dei volti Che rappresentano Le figure E le voci Di questa regione No? Quella Dell'Europa Ma Anche Reville Credo sia Conquente Anche Reville Per cominciare a raccastare In italiano Ha dovuto fare Un bel corso Un corso Giusto Che cattivo Vabbè Comunque non era Madrelingua ragazzi Cioè Ho dovuto Approfondire Tutto quanto Reville Non mi ricordo Di dove stai Di preciso Anch'io sono a vento Non si sente? No no Mi è te l'ho chiesto Proprio perché Mi era venuto il dubbio Capito Cioè Lo immaginavo Una certa vicinanza La percepivo Rottiglia non Beh La costa La costa è la stessa Di Rovigo Di Rovigo Reville Il mare su cui vi bagnate È lo stesso Ah quindi sei di Marghera Reville Dillo Poi ci sono Marghera Di distanza Mille chilometri Di costa Di distanza Tipo Però vabbè Questo è un dettaglio 2000 Comunque Io e Zen Spesso ogni tanto Fantastichiamo Che abbiamo scoperto Queste stati che abitiamo Relativamente vicini E Queste fantastiche Cioè Fammi capire Molto Ma è parita Molto Sì Perché Zen Comunque Ci sta a fantasticare Su Zen Vorrei capire Attenzione Attenzione Castare League of Legends In dialetto Wow Una cosa che non l'ha mai Fatto nessuno Cioè Non l'ha mai Allora Alla videocamera Spacco Tutti i monitor Potrebbe essere Mentora Pensaci Non l'ha mai Se qualcosa Non l'ha mai Fatta nessuno Di solito Per due motivi O è una cagata Pazzesca O nessuno Ci ha mai pensato Mi sta Prendendo per il culo Mi sta Frammando pure Perché è una cagata Pazzesca Perché è una cagata Pazzesca Ovviamente Io ti metto sempre Il dialetto barese Nel mio cast Una cagata La devo dire In barese Poi la devo spiegare Ci sta È il tuo marchio di fabbrica Altrimenti Zen sa benissimo Che In veneto Si casta solamente In due modi Con le bestemmie Con lo sprizzo in mano Guarda Io Allora E penso che nessuna Delle due Può andare Dovevo leggerla Capito perché nessuno L'ha mai fatto Il dialetto Si lo uso Però La bestemmia No Quello non Perché non fa parte Del tuo dialetto Eh Purtroppo Devo scegliere A prendere posizione Quelle purtroppo Non le ho ancora mai usate E non penso di doverle mai usare Senti Ricordiamo che Almeno prima ricordavano Che il match d'esordio Che è stato Da Charlie Era Hannibal Sejuani Versus Rakan Vischio Tra l'altro Di quel match Io sono stato presentato Al pate di Zen Con Lui gioca meglio di me Io ho conosciuto Il pate di Zen Così Lui a Vischio Gioca meglio di me Fortissimo Zen Fortissimo Va bene Quindi Senti Come ci si sente A passare Da Un Rakan Che comunque Muore poche volte Al dover castare Ilissang Che Tutti e due Potrebbero intare Nel momento In cui Meno te lo aspetti No Il Miracan Non minta mai 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 Appunto Questa è la differenza Questa è la differenza All'anno scorso Mi chiamavano pazzo Nel giudicare Ilissang Comunque io vorrei Ricordare Un dettaglio fondamentale In quello Il suo match Ok Staff Rumble Mi sembra Tra l'altro Di atleta Io Ho avuto il piacere L'onore L'onore Di commentare Il galio Di Giunetti Da cui La clip In cui Avevo Ero presa Benissimo Avevo voglia Di fare un po' Di cacciara E Nel momento in cui Mi sembra Ci fosse stata Un'uccisione Ai danni Ai danni di galio Io dissi qualcosa Tipo Il pollo È fritto E da lì Feci una clip Che era un memotto Assurdo Ma E scrissi Se andate Se andate su instagram È ancora lì Perché Vale la pena Vale la pena Ricordare quei momenti E ero Capito Cioè Flammare Flammare In un certo senso Memare Su Sembra che facesse Già Figginaz E cioè Era letteralmente Flammare una persona Che era Ad un livello Molto più alto Del mio E ero tipo Ok bella raga Ho detto Sta cacata Quando la tua carriera Da caster Finisce Prima di iniziare E oggi È così Che ci si sente Perché Riguardando quei momenti Dici Ah Quindi devo Flammare I caster No 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 È facile Così 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 Bello Molto bello Il prossimo è Moonboy Visto che sta qui Ma su cosa lo vuoi flammare Moonboy Esattamente Non so Non so Tocca a te Decidolo Poi io dico Pisano e Etruria In continuazione Ne sono ancora qua Niente Solo quelli E lì sì Ah Quindi devo Flammare solamente Quelli e lì sì Oppure possiamo fare Valorant E flammiamo loro Su Valorant E così prendiamo pure Wallcat Bello Va bene Ci proviamo Tu sei ancora qua Vischio Ma No anche la Org Hannibal Anche la Org È ancora qua Ti aspetto Revil Ti voglio bene Anch'io Ti voglio bene Anch'io Deo non ti spegnere Oggi Ti stai spegnendo Ti stai decimendo No 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 Sto ascoltando Sto ascoltando Stiamo rubando Abbiamo rubato 11 minuti a charlie Possiamo continuare Secondo me No 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 Non sarebbe corretto Anzi quando deve andare Dalla sedia andasse No ma raga Allora c'è da dire Che sono arrivata Anche io un po' Dopo per varie vicissitudini Quindi se Ma va Se volete abbiamo ancora Qualche minuto bonus Giornetti quando inizia a fare Quella live Quella roba L'innominabile Tu sai cosa C'è due pbp a fare quella cosa Immagina i play by play studiano Tu l'avresti mai detto? No Ovviamente no mai Io non lo sapevo Ma zi Però Giornetti fa anche il color Quindi Mi stai zitto Lui può studiare Tu non sei giustificato Se non studi tranquilla No no ma infatti Cioè io Gli ho chiesto Proprio perché è color Anche quindi ho detto Dai magari Eh perché Se no Non era la stessa cosa Senti Ma tu pensi che Questo possa essere Il tuo mestiere? Come la vedi tu La situazione in generale Dei Dei Caster Almeno per quanto riguarda La scena italiana In che senso? Nel senso Pensi che sia necessario Fare anche altro O questa può essere Una Una via Cioè nel senso Tu come ti vedi Fra tre, quattro, cinque anni Continuerai a fare questo Non lo sai Intanto provi Vedi come va la cosa E cerchi di capire Se Se si può andare avanti Oppure no Questa è esattamente Una delle domande Che di solito Fanno i colloqui Tipo come ti vedrai Tra dieci anni Esatto E tu dici Ok cosa ho mangiato Oggi a pranzo Oggi A pranzo Oppure come ti senti Dall'essere passata A due lan In un anno A nessuna lan Mai più Allora mai Mai dire mai Ok Ma Raga Io Non vi nascondo Che una quantità Moderata di strizza Ci sta Cioè Inutile dirlo Inutile fare Tipo No La faccia Da poker E dire Assolutamente niente Io sono nata Per questo Cioè C'è tutto un percorso La cosa Secondo me Secondo me Bella Di quando fai un percorso È che Facendo un passo Alla volta No Ti rendi conto Che quando ti trovi In un momento Che magari per te Un anno fa Era Fuori di testa Era una cosa Impensabile E nel momento In cui ti ci trovi Dentro Capisci Se È il momento Giusto O no Se mi fosse Capitata un anno fa Questa opportunità Non sarebbe Stato lo stesso Oggi Dopo Più esperienza È una sfida Importantissima È lì È un contesto Tutto diverso C'è uno storico Come dicevo prima Ha un pubblico Che È molto affiatato Parte da Un contesto Competitivo E anche Dal punto Dell'intrattenimento Di un certo tipo Quindi Ci sono inevitabilmente Delle Situazioni diverse Fortunatamente Avendo un po' più Di esperienza Di un anno fa Ci sono cose Su cui mi sento Un po' più solida In modo tale Da potermi concentrare Su quelle in cui Ho un percorso Gigantesco Da fare Però Non è questo Cioè Non Per queste cose Non avevo Intenzione Di fermarmi Magari in altre situazioni Qualcun'altra persona Poteva dire Non lo so È una cosa più grande Di me È una cosa che va oltre Questa per me È una sfida Che richiederà Tanto impegno Per rispondere Alla domanda Di De Ugemo Io faccio Tante cose Chi Chi mi conosce Sa che Non riesco Appunto A stare ferma Ad accontentarmi Di fare Una cosa Alla volta Un po' Alla volta Con tanta pazienza Forse domani Mi definisco decisamente Il contrario di questo Tendo a fare Tante cose Non ho tempo Da perdere Devo In un certo senso Capitalizzare Il tempo Non nel senso Che il tempo È denaro Ma nel senso Che Tendo a Far fatica Ad accettare Il far niente Spero di Aver reso L'idea E Di conseguenza Per prendere Anche una metafora Economica Diversificare L'investimento Del proprio Tempo È importante Quindi Io faccio Anche altro Nella Nella vita Che però In qualche modo Stringe la mano E fa l'occhiolino Anche a tutte le altre cose Perché io di lavoro Mi occupo di comunicazione E quindi Inevitabilmente È applicabile A tutto quello Che vediamo L'e-sport La scena Competitiva Quello che significa Esporsi E essere presenti Su certe piattaforme Rispetto ad altre E È una responsabilità Nel momento in cui Decidi di esserci Devi decidere come Questo per rispondere Tutto questo preambolo Per il dono della sintesi Dei play by play Per dire che cosa A me piace Piace Quello che Sto facendo Spero che mi piacerà Altrettanto Ma sono molto fiduciosa Quello che farò Io sono super carica E mi piacerebbe Che questo diventasse Un lavoro a tempo pieno Chiamiamola così In questo caso In realtà Di fronte a questi contesti Tutti siamo qua Perché ci piace Prima di tutto Facevo questo discorso Prima con un'altra persona E se non ci piacesse Non saremmo investiti Della voglia Di occupare Tanto tempo Extra A dedicarci A determinate Situazioni Perché non è solamente Per me Castare In questo caso Essere live Nel caso di Deugemo Scrivere l'articolo O parlare Di un determinato Argomento È la preparazione È andare All'interno Delle Delle situazioni Vedere che cosa C'è sotto È molto di più Di questo Se non piacesse Non sarebbe Fattibile Non è Battere Un prezzo Ad una cassa È uno scontrino Ecco questo è il prezzo O qualsiasi altro Tipo di lavoro Magari più Meccanico Credo che bisogna Essere appunto Investiti Da una certa dose Di passione Per poter Dedicare Così tanta energia Ad un contesto Che ha tantissimi stimoli Quindi Sì Mi piacerebbe Dono della sintesi Comunque Sì Per rispondere Sì Mi piacerebbe A parte il dono Della sintesi Mi fa molto piacere Che tu abbia il dono Della Della parola Cioè se una persona Che sa parlare In italiano E non è scontato Nel No ha fatto Nel giorno Di oggi E quindi Pensavo stessi dicendo Nell'e-sport Però va bene I vostri figli Vi chiederanno A cosa serve Il classico Potete mandare Questa clip Grazie Grazie Finalmente Sentite Chiudete le orecchie Chiudetele Mannaggia Hai fatto Inorgoglire Nuovamente Vischio Mannaggia 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 Senti Ma poi mi fa Domanda A livello di Taggiatura Parlare In italiano Non è che siamo qua Per bullizzare Revi Il povero Cioè è bravissimo Anche lui Grazie Oh carino Vai Revi Sei bravo Sembra 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 No aspetta Sei di qua Grazie Grazie Ultima Ultima domanda Oh è arrivato Zidaris Nel frattempo Che onore Grazie a tutti Senti ma Ultima domanda O insomma Poi vediamo Che ora si fa In base a quando Devi andare E adesso Dopo quelle personali Un po' Una domanda Una domanda Tecnica Cioè cosa ne pensi Di questo split Di L Sì Visto anche Che tu parlavi Di preparazione Che cosa Che cosa ne pensi Che ne dici Che vedi qualche squadra favorita In particolare O giocatori Da tenere d'occhio Che impressione ti sei fatta In questa off season Di quello che Possiamo aspettarci In questa stagione Allora Una cosa di cui ho parlato Ho parlato anche Nei giorni precedenti È Il processo di verticalizzazione Che c'è Da academy Di org Particolarmente grandi Andiamo a pensare anche Fanatic Ok Che hanno magari Dei team Academy Nelle leghe Regionali Nazionali Ciao Hannibal Come per esempio Fanatic Che puntano A verticalizzare Le giovani promesse Che ci sono In contesti Che non sono necessariamente Quelli Da LEC Ok Quindi Classico E-sport Mercato Ma che vada A prendere Appunto Delle giovani promesse Quindi Fanatic E esso Potremmo vedere I futuri Fanatic No? In leghe europee Sì sì E questa cosa È un processo Che Lo trovo Molto virtuoso E che vada Oltre il Andare a Capitalizzare Sempre su figure Ben conosciute Che Vista L'età Media All'interno Del panorama Sportivo Dal punto di vista Dei giocatori Si tende Per certi versi Ad esaurirsi Tranne se sei faker Se sei faker Questa regola Non esiste Non funziona Non è applicabile Tra l'altro Ricordiamolo Oggi Faker Ha superato Qualsiasi record Possibile Per KDA Per chi Nel CK Per qualsiasi cosa Con più uccisioni Con più morti E con più assist Di tutta la storia Nel CK Quando torno A Milano Ciao Lisa Quando torno a Milano Per la finale Dello Spring Quando andiamo Tutti al Combo A fare Il watching party Se lo organizzano A fare la festona Questa volta ci verrò Io Tipo mi ricordo Che quell'evento Al Combo Non potei andarci Perché tipo O suonavo O avevo Una Non mi ricordo Forse addirittura Commentavo Che Non mi ricordo Nella cosa Cosa stessi facendo Che ero tipo Ero tutta lì Organizzata Sì dai Adesso prendo Vado Mi trovo E poi niente Mi hanno messo Un'altra cosa Ero tipo Tanto io ospiterò Carlotta Ci dice Lisa Ok Lisa mia sorella Veramente Mia sorella Allora sei rapito Per il pranzo prefinale Così come rapito Adogiamo la prima volta Ragazzi se mi portate Al sushi Sono sempre contento Sempre Il livello di Io devo dire Il livello di corruttibilità Della mia persona È Il cibo Cioè Se mi dicono Ok Carlotta Andiamo a cena A fare questa In questo posto Di qua Sì Ramen riso Va bene lo stesso Va benissimo Andiamo in pizzeria Sono più buone le pizze Abbiamo portato Raeville al sushi Abbiamo portato Raeville al sushi E ha preso il ramen E basta All'Holyukenit Errore clamoroso Ragazzi All'Holyukenit Ha preso il ramen Errore clamoroso Capito Dove dice Anipa L'invece È specializzato Sì E ti assicuro Che vale la pena E che sì Vedi Litz Che ne capisce Ne capisce Senti Prima Mongboi aveva detto Ti lasciamo andare Subito Ma Mongboi aveva detto Per fortuna Abbiamo un caster Che sa parlare italiano Dirò altro No non ha detto Per fortuna Abbiamo un caster Almeno Ha scritto Dovevamo per forza Prendere almeno Un caster Che parlassi italiano Implica già il fatto Che sia Charlie Che ci sono ora Non parlano italiano Che Charlie finalmente È una che sa parlare italiano E ripeto Si vede Ne sono veramente Non è che Ripeto Non è che gli altri Sono scarsi Solo che Si capisce Che c'è proprio Proprietà di linguaggio Il basso del classico Che c'è E non solo il classico Non solo il classico Questo Nasconde tante altre Cose Sì ma Deugemo Perdonami Tu non è che Perché se abbiamo avuto Un ospite La settimana scorsa Adesso lo puoi flammare Cioè non è che adesso Dici Terrenas non sa parlare italiano Non c'è bisogno Ma Terrenas non è che Non sa parlare italiano Non parla È diverso Non vuole parlare È di poche parole È di poche parole Ragazzi di poche parole Esatto Va bene Tra l'altro siamo con Terranei Quindi cioè Come potrei non mostrare Solidarietà Cioè tu sei Di Treviso Zen di Venezia Brizz di Robigo Non ma Venezia Sportiva Nel senso che ha 10 minuti Sportiva Sportiva Veneto è broken Veneto è broken Ragazzi Mamma mia Così dicono Tu pensi che io stavo Con una Veneta Che era rossa di capelli Quanto ero fottuto io E Ciaria adesso mi capirà No? No? Non mi capisce? Va bene Allora non continui Non cogli? Abbiamo Deogemo Revil e la mafia Basta Non c'è problema No ragazzi C'era il detto Veneto Rossa dei capelli Va bene Rossa dei capelli Scusa mi scusate Non la conosco Non la conosco Davvero? Chiedo l'aiuto del pubblico Zen Ragazzi ma sul serio? Va bene Rossa dei capelli Non la conosco Basta Ah vabbè Ok Pensavo fosse una cosa Una dicitura veneta Di quelle Si dice ovunque Vabbè Non lo conoscono Ora ho letto la chat Grazie Possiamo andare oltre Se il tetto è roggenito La cantina è bagnata Questa non la conosco Io Andiamo avanti Va bene sì In Veneto si mangiano gli osei Non per altro Esatto In Veneto si mangiano gli osei Anche in Nel resto dell'Italia Va bene Andiamo avanti Grazie Andiamo avanti Siano per cortesia Non prendiamo certi Risolleviamo il tiro Esatto Charlie stavamo dicendo Quindi Chi vince questo Almeno winter Anche perché oggi Abbiamo scoperto Che chi vince il winter Va all'MSI Non si sa Non si sa Poi se è ancora Come primo o secondo sit Però Esatto Esatto All'Ombra All'Ombra Esatto Ok rispondo Velocissimamente Perché poi Devo scappare Ci siamo Perfetto Allora Non prendetela Come una prediction Perché le prediction Finché non sono ufficiali Ecco Tra l'altro dovremmo scoprire Adesso bene bene Dovremmo scoprire Adesso bene bene Come vai tu con le prediction Se anche tu porti sfiga ai team Non votare mai i fanatic In caso comunque Grazie Che già di per sé Stanno messi male Grazie Eccoci Allora Fatemi prendere un attimo Vai Ligipedia Sì Ogni riferimento È puramente Casuale Raga Allora Io devo dire Ho un flashback Del Vietnam In questo caso Ho iniziato a seguire Sul serio In competitivo Il Summer Split Di Elisim E questo me lo ricordo In cui c'era Un Elioia Bello come il sole In cui giocavo Una Chiana Che era tanto così Da una Ah Sì Sì 2021 2021 Quindi Allora A me piacerebbe Tanto rivedere Dei Made Lions In forma Però Hanno Carzi Eilisang Eh Ma posso 10 Potre In ogni Città Non ho ne detto Un po' di saspen Usscire Usscire Qualsiasi No Usscire Qualsiasi cosa Ma raga Appena entro Nella Samorazzo Allora E detto Perché Dovici Ma potrebbero Benissimo Essere anche 10 Zero Dopo Cinque Quella Quella Bottle E Quello Cioè Se vanno A 10 Zero E Peggio Possi Un Caster Sempre Castare Quella Bottle Potrò Regalare Camera Fissa Sempre Succede Di tutto Di più Quindi Raga Io che dire Butto Butto il gettone Su dei Made Lions Mi piacerebbe Vedere Brillare Come Come quel Leone Dorato Ma Mi riservo Di poter Vedere Anche Dell'altro Quindi Lo scopriremo A partire Da domani Ne riparliamo Ci viene a ritrovare Ha detto Bad Lions Ha detto Sai Caster Con stare Charlie È molto importante Scopriremo Se mi hanno Insegnato bene Ho imparato dal migliore Comunque Ragazzi Io veramente Vi ringrazio un sacco Per il vostro tempo Per avermi invitata Qui a fare Quattro chiacchiere Quando volete A me fa sempre piacere Sapete essere Qui con tutti voi Grazie E complimenti Va bene Grazie Charlie Grazie per essere Passato Ragazzi Giusto Può succedere È andata Mettiamo ora L'applico di Charlie Ovviamente C'era da andare Perché Giustamente Addio È tornata È tornata È tornata Che è successo È tornata Pensavamo Fossi Pensavamo Fossi Una pezza di merda No Ce l'hai Conduiti Charlie La facciamo Ricomparire Ragazzi Scusate Un attimo Perché anche la regia Ha esploso tutto Anche in regia Sì la regia si è emozionata Dove è andata adesso Ti è imparicato Momic Eh no Che hai fatto Hai levato la maschera Aia Vabbè anche senza maschera Dai basta che la Senza maschera Guarda Anche Full screen su di lei Per salutarla Dai anche full screen Grazie mille ragazzi Grazie mille veramente Per queste quattro chiacchiere Mi ha fatto super piacere Quando volete ci risentiamo E buon inizio winter split Ci vediamo in elisi A te In bocca al lupo Ciao Charlie Grazie Ciao 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 Ciao